dai e ci incontriamo tutti al locale non in sette che non si può entrare alle nove che dopo si chiude U U D presto fuoco manca e ci sarà il coprifuoco non pensare che sia un gioco tutti a casa e pronti a sentire che arriva La nuova puntata del DPCM non ti confondere è DPCM Dista per domani, cipper prepariamo, cipper crostate e marmellate DPCM ho perso il conto del DPCM Non ti preoccupare caro ascoltatore tu sei sempre un gladiatore